Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Continuiamo la scalata Verso 2200 2131 in realtà Se non perdo altre partite Siamo lì, siamo vicini Quindi siciliana, siciliana chiusa Alfebbi 5, variante molto rara Proprio conosciuta, strana Devo ammettere è anche molto strana In generale catturano tutti L'idea è che c'è due coppie alfebbi Ma ho due pezzi sviluppati Mentre il nero ne ha zero Quindi ho un vantaggio di sviluppo Che mi porta ad avere un vantaggio di iniziativa Cosa che io adoro Perché poi posso attaccare subito Quindi nell'apertura che scelgo Cerco sempre di avere questa situazione La cui posso catturare di regina Può sembrare strano Ma l'idea è che Creo problemi al nero Non poteva muovere l'alfiere perché Aveva il primo G7 in presa Lui dice di muovere il cavallo E sui 5 probabilmente ha già difficoltà Vediamo cosa fa Ecco torna indietro E allora diciamo che Qualcosa non è andato Nella sua strategia Potrei giocare alfiere G5 Interessante F6 però non è per Oppure cavallo E4 E poi è molto bella Ma quello che io vorrei tanto fare È arroccare lungo Per attaccare subito D7 Quindi forse questo alfiere Lo metterò in F4 Con l'idea di evitare Mosse come D6 O anche in E3 Anche in E3 Può stare bene Perché no Alfiere 3 D6 Arrocco lungo D5 Cavallo E4 Qual è il problema? Donna 5 Alfiere D2 Anche cavallo E4 Si potrebbe pure fare subito I tagliato D6 Anzi forse la faccio subito Ma sì dai Non perdiamo tempo Attacchiamo Però sì alla prossima Sinceramente vorrei giocare Alfiere D5 E arrocco lungo Comunque muovere questo alfiere E poi arroccare lungo Andiamo un po' F5 F6 Pedone per Cavallo per Cavallo per Cavallo per Alfiere P Perché già ora Alfiere D5 Diventa molto molto più forte Rispetto a prima Inoltre alfiere D5 Alfiere D7 Adesso c'è scacco in D6 Che obbliga l'avversario A muovere E muovere in apertura Sappiamo Essere ovviamente Un errore Comunque Un problema Che poi dovrà risolvere Io potrei anche Arroccare corto Cioè io dico Arrocco lungo Perché vedo questa Colonna D aperta E quindi vorrei Sfruttarla Ma nulla mi vede Arroccare corto Alfiere D7 Ora questo cavallo Come lo sviluppa Quindi semplicemente Io a questo punto Aspetto Aspetto E gioco Per esempio O alfiere F4 O alfiere D3 Lui alla fine Vorrà giocare F6 Sicuramente Perone per Cavallo per A questo punto Allora io gioco Alfiere F4 Così poi Vado in D6 E poi Da capire Rocco lungo Rocco corto Rocco lungo Ci potrebbero essere Qualcuni rischi Qui ok Semplicemente C3 Direi A questo punto Se la regina Rimane qui A5 Meglio Roccare corto Donna B5 Mossa strana Vuole lasciare Il mio re al centro Anche se Posso pure Roccare lungo Vedo D6 Alfiere G5 Se mi cattura C'è quello di 6 Scacco F6 Pedone per Pedone per Cavallo per F6 Cavallo per Alfiere per Alfiere per Pedone per Alfiere G5 Vediamo un po' Come risolve Questo problema Qui non può giocare F6 Non può catturare Alfiere Cosa fa Alfiere F8 Beh Ah Mi sono completamente Dimenticato Che c'era Che donna B5 Minacciava donna B2 Completamente Dimenticato Ok Non passa nada E Vabbè Rocco corto A questo punto Direi che È obbligatorio Difendo la torre Minaccio eventuali Torre B1 F6 Pedone per E qui Catturo tutto Usa Tre attaccanti Due difensori Ebbè Certo Altre Idee Cavallo di Se scacco No No Catturiamo tutto Riprendiamo il pedone E soprattutto Il suo re È al centro Quindi basta Poi riuscire a portare Qualche altro pezzo All'attacco Quindi potrebbe essere Non mi ha catturato Alfiere Vabbè Però io catturo Sì dai Quindi già Torre in D1 Interessante Posso dare uno Scacchetto Però non so Quanto sia utile Scacco qui Invece Mi porta A catturare H7 Quindi già Ha più senso Però intanto Portiamo la torre Quindi Torre in D1 Minacci torna a D6 Poi posso portare Anche il cavallo Ne portiamo Più pezzi E alla fine Verrà fuori Che ci sarà Uno scacco matto Donna H4 Scacco Re qui Cavallo D4 Donna D6 Cavallo D5 Questo è interessante Donna D6 Cavallo D4 Mi fa Donna D5 Vabbè scacco qua Questo cavallo Dove vorrei averlo In D6 In D6 Sarebbe bello In D6 Ah attenzione Cavallo D4 Cavallo per D6 Peone per Torre in D8 Questo è interessante Vediamo se riesce Quindi minacci Cavallo per Peone per Torre in D8 Torre qui Donna F4 E Donna per Torre Questa è bella Come può difendersi Donna E5 Ok Adesso Ho Torre 1 Però Inoltre Cavallo per Esepe Donna Eper Torre di D8 Torre qui Torre 1 Tutti i pezzi Adesso Sono all'attacco Come vedete Quindi Ci deve essere Qualcosa di tattica A questo punto E Quasi sicuramente C'è qualcosa Se non so Vedete cosa Lanci tutto No Con il fringolo Un posto C'è la torre Cavallo per D6 Pedone per Torre in D8 Re F7 Re F7 Donna F4 Re G8 Sembrerebbe che si difenda Non c'è niente Non c'è niente Veramente Assurda F4 F5 Che cosa Cosa fa Torre in G8 Scrappone H5 Mi fa F7 Allora Questo corallo per D6 C'è assurdo Che non c'è nulla Però sì Effettivamente Sembra che si difende Va bene Accettiamolo Non succede niente E a questo punto Io direi F4 F5 Mi sembra Un'idea interessante Quindi Apriamo il centro Torre G8 Ok Posso giocare G3 Posso giocare Donna F2 Mi difendo facilmente Poi mi metto Donna F2 Poi F5 Se invece fa B5 Alfiere B7 Dei controattacco Ok F5 Quindi B5 F5 Alfiere B7 Donna F2 Alfiere B7 Donna F2 Torre G8 G3 Anche se Già adesso Già adesso Con le prese È vincente Però Su Torre G8 Con le prese Mi fa Donna Per Quindi Prima G3 Torre P6 E vincente Perché Perone Per Torre Per F7 Torre Qui E catturo la donna Lui non può arroccare Ricordatevi non può arroccare lungo Perché ha mosso il re Quindi a rocco lungo Non è una mossa Che può fare Minaccio Cavallo per E6 Ok Etro F6 Evita cavallo per E6 Corretto Spostiamoci Sì Spostiamoci Così Alla prossima Catturine 6 Donna D2 Perché in D2 Perché continua a difendere Ma ora Potrei anche attaccare D7 Volendo Quindi prossima Perone Per Forse un giocatore In D8 Alla donna B2 Potrò giocare anche Vabbè Dai Ok Vabbè Catturiamo Mi alcio Cavallo per Quindi non può catturare Di pedone Se no Ok Cavallo per E6 E deve servire la qualità Ma comunque Hai il re troppo scoperto Quindi cosa fa Frattore G6 Torre F1 Vabbè Questo è tipo Sì Mossa dell'abbandono Ok Bella partita Devo dire Soddisfatto Della partita Un attacco Ottimo Ok Che qui non ho visto D1 per B2 È un po' Da Da stupidi In precisione Però va bene Qui già l'attacco Secondo me è vincente Il nero Non può Permettersi Dopo nove mosse Di avere tutti i pezzi a casa E io ho tre pezzi sviluppati Questa regina È al centro Ed è messa bene Perché non può essere attaccata Quindi L'apertura per il nero Compotente a rivedere È per me Assolutamente Ottima Quindi Ditemi nei commenti Che ne avete Di questa partita Vi lascio Dei video qui In sulle pressioni E vi chiedo Di lasciare un like Per supportare Il canale youtube Scacchista Matto Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao